Buona voce con polmoni, quindi diamo due minuti e poi si passa al secondo, al terzo, cambia la musica e cambia il picco, la tonalità della musica. Cercate di allinearvi con quella che è la tonalità per quanto ce la fate, chiaramente potete andare su e giù, se per caso la musica va troppo alta e volete abbassare il tono va benissimo lo stesso, cercate semplicemente di essere intonati più che potete. Quindi due minuti per chakra fa 7-14 minuti, un minuto per scendere e poi rimaniamo in silenzio fermi immobili fino a che suona il gong, tutto qua. Quindi facciamo una bella colonna sonora, una corale di suono dei nostri chakra che parte e unisce terra e cielo. Bene, al gong ci fermiamo. Grazie. 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 Grazie.